buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale youtube vediamo in questo filmato un computer molto molto particolare e anche piuttosto raro da trovare che è il pecom 32 il pecom 32 è un computer che è stato prodotto in serbia nel 1985 da una ditta che si chiama electronsta industria adesso non so se la pronuncia sia corretta ma dovrebbe essere appunto qualcosa di simile il pecom 32 è il primo di due computer che sono stati realizzati da questa casa perché a seguito fu realizzato anche il pecom 64 questo computer qui dalle dimensioni piuttosto contenute se vogliamo fare il paragone con la mia mano questo computer qui monta un processore che non è stato utilizzato tantissimo negli home computer che è la rca 1802 rca 1802 è stato utilizzato ad esempio nel comix 35 nella rca studio 2 la console e anche nei vari cosmic cosmic elf e il cosmic vip in sostanza è stato usato su questi home computer qui e anche appunto nel pecom 32 e 64 il 32 da cui prende il nome il computer stanno ad indicare i 32 kilobyte di ram appunto disponibili per l'utente l'interprete integrato è il classico interprete basic e che altro aggiungersi questo qui a 32 kilobyte di ram e il firmware e l'interprete basic sono contenuti in 16 kilobyte di memoria rom su eprom e c'è da dire che nel pecom 64 invece oltre ad esserci 64 kilobyte di ram il firmware è contenuto assieme all'interprete basic all'interno di due eprom da 16k alune per un totale di 32k di memoria e prom il computer è questo qua appunto come potete vedere l'alimentatore è interno qui vi è appunto la la spina per collegarlo la 220 c'è l'interruttore di accensione e spegnimento posto qui sopra la tastiera è questa qui qui è stato modificato un tasto dovrebbe essere un tasto shift per renderlo shift loco un tasto di reset non ne sono sicuro e poi qui sul retro possiamo vedere a quelle che sono le porte posteriori del computer via questo connettore din che è l'interfaccia cassette almeno così dovrebbe essere e poi qui a fianco ci sono l'uscita videocomposita mon l'uscita ton che dovrebbe essere l'uscita audio e l'uscita tv per collegarlo a un televisore via cavo rf antenna e qui sotto appunto potete vedere appunto elettronska industria e il modello anche se non si legge molto pecom 32 scritto qui e numero di serie andiamo ora ad analizzare nel dettaglio la scheda interna del pecom 32 ecco possiamo vedere qui la scheda interna del pecom 32 in particolare possiamo notare qui sulla sinistra il processore 1802 della rca nella versione ceramica particolare in ceramica viola a fianco al processore abbiamo una eprom 27 128 che è una eprom da 16 kilobyte che appunto contiene tutto il firmware della macchina e quindi anche l'interprete basic e qui a fianco vi sono delle ram tmm 416 che dovrebbero essere compatibili con le 41 16 sono delle ram che in totale formano appunto i 32 kilobyte di cui è dotata la macchina poi qui in fondo vi sono due integrati sempre della rca un cdp 1870 e un cdp dovrebbe essere 18 69 posti appunto qui integrati da 40 pin che appunto servono per gestire tutta la circuiteria video e credo anche l'interfacciamento della porta a cassette che poi appunto è gestito anche qui da questa circuiteria qui qui c'è il trasformatore e qui il modulatore video con anche le uscite del composito e dell'audio e poi qui ci sono due chip appunto dovrebbero essere delle ram compatibili con le 61 16 che dovrebbero essere i chip di ram video la scheda appunto potete vedere è di costruzione abbastanza artigianale ed è questa qui che potete vedere ecco questa qui è la schermata di avvio del pecom 32 come potete vedere viene scritto pecom 32 ready il prompt del basic e qui può essere scritto un semplice ad esempio programma in basic con i comandi classici del basic potete vedere che la tastiera funziona e questo qui appunto è il pecom 32 da acceso va bene spero che questo video vi sia interessato vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale youtube grazie